Enrico Magrelli, Mirabile visione, Inferno, che film è? Anche questo è un documentario, secondo me dovrebbe essere adottato nelle scuole perché è proprio un viaggio critico dentro l'inferno di Dante mescolato con delle immagini anche di attualità ed mostra soprattutto la modernità e la contemporaneità di quel capolavoro di Dante. E' un frullatore di immagini anche, nel mettere in scena le immagini del processo di Tortorina gestito da Guidolo Forte con lo schiaffo di Uri Smith a Chris Rock. Ecco perciò la modernità, la contemporaneità per rendere diciamo universale quello che è stato da sempre il testo più importante, la Divina Commedia. In questo caso il canto dell'inferno e ci tengo a... Sentiamo Franzi, andiamo a Cosenza, Franzi. Ferenza Buccellato e Luigi Liberti. Professor Sirignano, andiamo a Napoli, sempre l'offerta della settimana. Buonasera, sì, è un'offerta molto interessante e ricca di spunti sociali dai bambini, la scuola, l'amore, il disagio psichico. Io ritengo molto molto interessanti Mirabile Inferno e il cerchio diciamo in quanto, insomma, entrambi mettono comunque al centro il valore della scuola, dell'insegnamento. Il cerchio rende questi bambini senz'altro dei protagonisti e ci consente di osservare il mondo attraverso il loro sguardo. Mirabile visione ci porta nell'inferno dantesco e attraverso gli occhi di Dante ci consente di osservare la realtà e l'inferno del nostro presente. Però entrambi, a mio avviso, mettono in evidenza il valore anche degli insegnanti cioè di questi insegnanti che hanno anche preso questa iniziativa l'insegnante che legge l'universo, l'inferno di Dante l'insegnante educatrice che pensa a questi bambini che osservano la realtà e il mondo e quindi penso che questo sia molto interessante, a mio avviso. Poi anche...